buona giornata amici da massimo foghetti siamo pronti per la rassegna stampa questa mattina oggi è martedì 28 marzo siamo quasi alla fine del mese l'aprile con tutto il fiorire della primavera e prossimo e quindi noi come sempre cominciamo la giornata leggendo i giornali partendo però dall'almanacco del giorno e vediamo che oggi si festeggia Santo Stefano di Arding siamo in Francia nell'undicesimo secolo è un fratto e benedettino che fu protagonista in modo particolare della espansione cistercense amante della vita austera le previsioni del tempo ci indicano invece un tempo instabile che stamattina fa più fresco rispetto ai giorni scorsi almeno nelle prime ore del mattino un tempo instabile fino alla metà della giornata con precipitazioni anche di moderata intensità specie nella bassa Marche verso la provincia di Ascoli Piceno insomma nella zona di San Benedetto del Tronto le temperature sono in calo 8 gradi la minima 11 la massima i venti spireranno sulle coste da nord ovest e nell'interno da nord nord ovest il mare è leggermente mosso questo è un po' il quadro della situazione meteorologica della giornata e allora noi apriamo il giornale a partire oggi dal resto del Carlino e vediamo quello che è accaduto ieri in consiglio regionale ebbene c'è stata maretta una burraschetta diciamo così a causa di una intemperanza del consigliere Rossi che si è lasciato sfuggire un'espressione triviale insomma un'espressione che non è stata gradita in modo particolare dalla capogruppo del Movimento 5 Stelle Marta Ruggeri in consiglio regionale come al bar intitola oggi il resto del Carlino Rossi nel Mirino uno scontro durante l'assise pubblica tra il consigliere dei civici appunto Rossi e la capogruppo del 5 del 5 Stelle stavano parlando stavano dibattendo il tema della energia green e lui ha replicato così non rompermi i copuntini puntini e poi si è scusato ma resta l'amarezza ovviamente Marta Ruggeri non è stata inerte di fronte a questa espressione che non è degna di un dibattito del consiglio regionale ma non è degno nemmeno di un dibattito politico in qualunque sede e quindi questo insomma ha destato una certa vivacità all'interno del consiglio c'è stato poi il presidente dell'assemblea latini che non ha accolto questa espressione poi invece confermata dal vicepresidente allora lui ha redarguito anche Rossi insomma c'è stato questo momento tuttavia l'ammarezza della Ruggeri si è espressa di fronte ad un dibattito che deve restare pur con tutte le sue diciamo così contrarietà con tutte le sue punte irte di polemiche deve restare sempre nei termini della correttezza e dunque questo insulto oggi ha l'apertura del resto del Carlino però ci sono insulti ancora più pesanti e sono quelli che vengono rievocati da una vicenda giudiziaria che mette in ballo mette in evidenza una lite tra vicini anzi una vicina che se la prende in modo particolare con una coppia che abita vicino a lei che insomma è in un appartamento accanto ma sono insulti pesanti questi addirittura sono insulti di morte insomma sono insulti veramente che hanno reso invivibile la vita di questa coppia ma c'è pure chi viene insultato dalla vicina terribile dice il resto del Carlino una coppia ha denunciato una 64enne che gridava di tutto dal balcone chiesta la soluzione per incapacità l'avvocato ha chiesto insomma una perizia di carattere psichiatrico minacce di morte, offese gridate dal balcone contro una coppia di vicini costretti a stare il meno possibile in casa nonostante il lockdown, i tempi delle vicende si riferiscono appunto agli anni scorsi manca sbarrare porte e finestre durante lo smart working per non fare sentire gli insulti agli interlocutori questi lavoravano in casa e quindi lavoravano con il computer e la vicina che gridava costantemente ingiurie nei confronti appunto di queste persone potevano anche inficiare il loro lavoro ebbene è finita processo per stalking ieri questa 64enne fanese la procura ha chiesto la soluzione, niente condanna quindi sulla base della perizia del medico che ha ritenuto la capacità di intendere e di volere dell'imputata gravemente compromessa però insomma ci sarà almeno una fase del procedimento di carattere civile e quindi anche il riscontro in termini pecuniari della vicenda giriamo pagina e troviamo una denuncia da parte del Lupus in Fabola e dell'Argonauta sono le due associazioni ambientaliste che evidenziano come in questi giorni viene messa in vendita la selva Severini, la selva di Centinarola, la selva di Fenile la meta di escursioni di tanti fanesi durante il primo maggio e le prime giornate di primavera si svende un boschetto a Fenile ma è un boschetto interessante perché conserva degli alberi che fanno parte, che sono gli eredi della paleofauna subapennina che ancora insiste nel territorio tra un mese andrà all'asta appunto questo bosco la selva di Ponte Verano anche così è conosciuta circa 4 etteri a destra dell'Arzilla gli ambientalisti dice sarà spezzettata in 10 parti ed è un peccato perché poi la gestione comune ne potrebbe risentire ed ecco perché avanzano un appello all'amministrazione comunale di Fano ma anche alla fondazione Carifano perché possono intervenire il costo non è molto, costa 76 mila euro che è una cifra alla portata di queste istituzioni che poi potrebbero darla in gestione ad alcune associazioni oppure anche a casa Archilei che ha tutti i mezzi e le competenze per gestire questo bosco un'oasi verde veramente importante da salvaguardare nel territorio di Fano quando il maestro è un cane a Sant'Orsolo si scuodinzola bellissimo questo titolo che usa il resto del calino che cosa accade? Anche la presenza di un cane in una scolaresca durante le lezioni giornaliere può essere un elemento didattico in più cosa fa un cane a scuola? scuodinzola dice il Carlino i bambini ridono non sapendo che degli a poco impareranno tante cose importanti proprio grazie alla presenza di Summer femmina di Labrador di 5 anni e poi di Astro un emeticcio tutto pepe invitati dalle insegnanti del circolo didattico di Fano Sant'Orso a trascorrere un po' di tempo insieme i bambini coinvolti sono 43 che potranno imparare dalla convivenza dalla presenza di questi cani tante cose sia sugli animali che anche sulle persone perché poi il rapporto tra animale e persone costituisce un elemento importante della pet therapy e quindi anche qui un elemento didattico originale in più che viene sperimentato nel circolo didattico di Sant'Orso ed ora parliamo di lavoro parliamo di lavoro perché c'è una bella iniziativa che viene organizzata al MEMO nei prossimi giorni sarà giovedì prossimo dalle 12 alle 19 un lavoro per l'estate cercatelo alla MEMO giovedì ci sarà un'intera giornata per incrociare domanda e offerta grazie al Summer Job un evento che viene ripetuto con successo ogni anno è un'iniziativa importante che miente in contatto coloro che cercano lavoro e quelli che lo offrano e ci saranno anche delle opportunità per coloro che vogliono un lavoro stagionale per coloro invece che cercano di inserirsi definitivamente nel mondo dell'occupazione e ci sono anche opportunità all'estero ci sono quindi dei colloqui delle possibilità di presentare i propri curriculum di colloquiare con le operatrici e di cercare una prospettiva per il futuro chi ha voglia può grazie al Summer Job evento rivolto ai giovani dai 16 anni in su organizzato dalla Informa Giovani giovedì dalle 12 alle 19 alla Mediateca Montanari l'iniziativa dice l'articolo punta a incrociare domanda e offerta attraverso colloqui rapidissimi tipo speed date suddivisi in quattro settori offerte di lavoro stagionale a Fano all'estero volontariato a Fano con rimborso spese volontariato all'estero per candidarsi è un lavoro stagionale a Fano basta presentarsi muniti di curriculum e proporsi ai colloqui tenuti dai rappresentanti del Consorzio Albergatori dell'Associazione Ristoranti della Provincia dell'Associazione Bagnini e del Centro per l'Impiego di Fano quindi chi vuole fare il bagnino chi vuole andare a lavorare in un ristorante in un albergo può ovviamente avere delle prospettive giriamo la pagina sempre sul resto del Carlino e vediamo come c'è stato un successo delle forze dell'ordine per quanto riguarda la repressione del mercato abusivo il tarocco come filosofia di vita condannati i pendolari del falso si tratta di due fratelli si chiamano Platone Platone è il cognome fermati nel 2021 dalla polizia locale quindi dai vigili urbani un'auto in auto profumi airpods smartphone tutti i contraffatti sono accusati di decine di truffe in tutta Italia quando a maggio del 2021 la polizia municipale di Fano li ha fermati per un controllo e a questo punto sono stati loro stessi a dire che gli oggetti che erano custoditi in auto erano tutti tarroccati si trattava di cinque confezioni di airpods di marca Apple un smartphone della Samsung una confezione di profumo da donna di Muggler tutte marche blasonate ma in quel caso tutte realmente false ed ora sono i fratelli Antonio ed Emanuele Platone di 40 e di 34 anni a finire sotto processo per contraffazione e ieri sono stati condannati a tre mesi di reclusione e a 400 euro di multa questa è un po' la fine del processo e poi c'è stato un momento di paura ieri al Fano Center che cosa è accaduto? è accaduto che una mamma ha chiuso la propria auto senza accorgersi che all'interno c'era una bambina ha chiuso lo sportello dell'auto lasciando le chiavi all'interno momento di panico la bambina poi si è messa a piangere perché il capellino il cappuccio gli si era abbassato davanti agli occhi la mamma disperata ha chiamato subito i vigili urbani i quali sono intervenuti in brevissimo tempo e hanno risolto la situazione aprendo lo sportello dell'auto però insomma è una disavventura a lieto fine successo ieri mattina alle 8.45 nel grande parcheggio del Fano Center vediamo le altre notizie della pagina 17 del resto del Carlino vediamo come ha avuto grande successo la spaghettata di Mondolfo a tavola in 2500 dice il Carlino 400 litri di sugo pensate un sugo veramente appetitoso perché poi il tonno insomma dà un certo sapore molto molto intrigante agli spaghetti ebbene oltre 2500 persone 10 caldare di sugo per un totale di 400 litri e 3 quintali e mezzo di spaghetti numeri veramente ragguardevoli per la 75esima edizione della spaghettata di Mondolfo che domenica ha animato il centro storico con tante persone che sono affluite dai vari centri delle Marche in questo bellissimo paesino mediovale delle colline fanesi vuole accoltellare il barista del night Entrenese lo blocca quando ha visto quella mano armarsi di coltello qui si tratta di un giovane di un giovane fanese di 20 anni che insomma ha avuto un momento così di intemperanza chiamiamola così come un effemismo in realtà forse era anche qualcosa di più ebbene il ragazzo si è lanciato contro il barista con questo coltello ma per fortuna l'Entrenese una signora una signora che lavorava nell'esercizio è riuscita a bloccarlo si tratta di una coraggiosa donna rumena che lavora nel night club di Marotta il bella bimba mentre il cliente come dicevo è un ventenne fanese finito a processo per tentata violenza privata e minacce aggravate ieri è stato condannato a due mesi di reclusione ed ora diamo un'occhiata anche a quello che accade nel ristorante Il Giardino di San Lorenzo in campo politici e industriali a cena ragionando di sviluppo è una iniziativa questa che tra l'altro persegue anche dei fini benefici perché il ricavato della serata verrà devoluto all'ospedale di Pergola amministratori imprenditori e terzo settore insieme per confrontarsi sulle prospettive economiche e sociali dell'alta Valcesano in una cena evento di beneficenza appunto che viene organizzata al Giardino di San Lorenzo in campo si tratta di una delle iniziative di tutta la serie proposta dalla vigna alla tavola che ha lo scopo di unire le produzioni locali alla ristorazione e sono diverse queste iniziative che cercano di porre alla ribalta i ristoranti del nostro territorio qualificando la cucina tradizionale a Fano per esempio si svolge la Fano gastronomica che ogni settimana quasi propone un appuntamento in uno dei dieci ristoranti che hanno aderito alla iniziativa con l'obbligo di proporre delle pesce rigorosamente pescato dai pescherecci locali quindi un pesce possiamo definirlo nostrano a Urbino non guardiamo l'orticello ma il bene comune il sindaco Maurizio Gambini risponde alle polemiche sulle fusioni dei territori dobbiamo fare strategie per il futuro non polemiche insomma non al campanilismo ma una visione più ampia per valorizzare tutto il territorio e poi torniamo a parlare dell'iniziativa che si è svolta domenica scorsa a Fano nella Sala San Michele il palazzo che ospita la sede decentrata fanese dell'Università di Urbino ebbene qui si è tenuto un convegno un convegno sui tumori organizzato dalla Fondazione Pirozzi in modo particolare per quanto riguarda i progressi del ricerca diamo un'occhiata a questo articolo nel laboratorio di patologia molecolare della Università di Urbino che si occupa della comprensione dei meccanismi molecolari alla base del cancro si sta dedicando alla comprensione di quei procedimenti epigenetici ovvero di quei meccanismi che sono normalmente deputati al controllo della funzione del DNA DNA che poi può essere veramente minato dalle cellule cancerogene ebbene le epimutazioni sono termini scientifici di questi ma che rendono veramente l'idea di quello che accade nel nostro organismo sono per natura reversibili quindi questi procedimenti che minacciano le cellele possono essere riproposti indietro possono ritornare indietro e quindi possono guarire possono portare alla soluzione quei problemi che crea questa malattia del secolo antecedente ma anche del secolo attuale le epimutazioni sono per natura reversibili e quindi molto interessanti per i ricercatori che da ormai due decenni stanno tentando con diverse strategie di ricondurre alla condizione normale con conseguenti benefici terapeutici appunto i malati di cancro insomma si tenta di arrivare alla guarigione ed è stato un convegno interessante che ha fatto luce sui progressi della ricerca società del soldo alvia le attività sospese per il covid domenica un momento conviviale ma anche il punto sull'aiuto alle famiglie bisognose riprenderà la passeggiata dei cappuccini con il tradizionale pranzo di primavera e poi anche la consegna degli attestati di benemerenza domenica 2 aprile partiranno le attività annuali della società del soldo di urbino società che torna al completo dopo la pandemia al primo impegno del 2023 seguiranno una gita sociale a maggio e l'appuntamento clou della festa dei capuccini a ferragosto con consegna di buoni alimentari alle famiglie urbinati in difficoltà quindi una compagnia benemerita che si dedica al benessere delle persone e poi diamo una buona notizia anche agli alluvionati territori alluvionati super bonus 110% fino al 2005 c'è stata questa progressione per ricevere queste facilitazioni per ripristinare le case danneggiate dall'alluvione la commissione finanze della camera ha approvato la deroga per le zone terremotate e l'area colpita dagli eventi per lo scorso settembre ovviamente ne beneficerà in modo particolare Cantiano ma anche tutte le altre località che sono state danneggiate dal fango e dall'acqua nel corso dei terribili eventi del settembre scorso a Sant'Angelo in Vado la protezione civile nasce l'isola didattica un luogo in cui poter fare informazione e prevenzione tutto l'anno in modo accessibile a tutti a incominciare dai bambini l'idea è di Graziano Mezzanotti che è il coordinatore del gruppo comunale della protezione civile di Sant'Angelo in Vado da sabato scorso è diventata reale l'inaugurazione di un'isola didattica ricca di pannelli contenenti le indicazioni utili sul modo corretto di fare di agire in situazioni critiche come terremoti alluvioni eccetera quindi delle indicazioni preziose da tenere conto nei momenti difficili e vediamo anche qualche notizia che riguarda Pesaro a Pesaro vediamo subito la prima pagina eccola qua dedicata a Carpegna e alla intitolazione del passo a Marco Pantani questi erano i tuoi monti e la dedica che fanno gli appassionati di ciclismo al campione commossi i genitori e i tifosi è il primo valico in Italia dedicato al campione che di valichi ne ha veramente superati tantissimi nel corso delle sue memorabili scalate tanti alla scopertura ufficiale del cartello mille alberi per fare l'aria più pulita nella superficie del caprilino qui viene piantata una foresta mille alberi prosegue dunque il progetto di rigenerazione del verde urbano a Pesaro si tratta dell'area culturale caprilino un'iniziativa sostenuta da Estra che è la società che vende il gas naturale e l'energia elettrica e che rientra all'interno del progetto mosaico verde quindi ancora più ossigeno ancora più verde nella immediata periferia pesarese e qui vediamo sempre alberi si parla di alberi si parla anche di una specie esotica si tratta esattamente della yacaranda yacaranda con i suoi fiori viola è una specie di alberi che proviene da Sud America il viale e la yacaranda della discordia a Trieste gelano qui che fine faranno è un punto interrogativo che ha posto Andreolli della Lega il quale si è informato dopo che il comune ha deciso di piantarle al mare insomma al mare spira la bora e questi alberi piuttosto delicati che stanno soffrendo a Trieste potrebbero soffrire anche a Pesaro e il problema è anche di natura economica perché poi si spendono soldi che poi magari una tempesta una follata di vento potrebbe rovinare e quindi sprecare queste risorse economiche ma staremo a vedere che cosa accadrà invece noi parliamo più concretamente di tassa sui rifiuti l'aumento però questa volta ci sarà a Pesaro da giugno aumenteranno aumenteranno le bollette del 6,2% in più è un aumento che è stato previsto da Arera addirittura era previsto l'anno scorso ma l'anno scorso il Comune ha investito dei soldi suoi per cui l'aumento è stato contemperato quest'anno invece non ha soldi e quindi l'aumento si applicherà nella sua totalità si tratta si tratta di un impatto di un impatto per 2.500 famiglie che purtroppo ne risenteranno per quanto riguarda il costo maggiore del servizio siamo in conclusione vediamo soltanto un ultimo articolo sempre qui sul resto del Carlino si dà l'ultimo addio a Luciano Battisti grande collezionista di moto che appunto deceduto nei giorni scorsi a Pesaro due ali di moto scorteranno la salma e questo è tutto per il momento Massimo Foghetti vi saluta vi dà appuntamento a domani alle ore 7 grazie per l'ascolto a risentirci grazie per l'ascolto